ragazzi allora andiamo scermiamoci signori è la terza volta che cerchiamo di fare una anzi no cazzo subito a careglia che è massicareglia quel posto dove jansolo va a incontrare il tipo lando coso e poi viene infilato nel tungsteno ragazzi non ho idea di come si chiama quel materiale non mi ricordo come si chiama lando carissan forse lo stesso lo stesso materiale dei carri tedesco è dove luke skywalker perde il braccio a careglia porca vacca non è di guarda ragazzi dopo facciamo la giramento tattico da dove ci sarebbe a di solito cioè al centro della mappa semi rovescia colpa tua ecco un altro cerebro leso o no è no perché lui si e io no perché noi è girato tutto è girato tutto di 180 gradi ma si ma l'euro perché fai queste boiate quale è arrivato l'altro guarda però lui ce l'ha fatta l'euro a che male portatelo in mezzo ai sassi stuporano lo tira fuori la crava ma si direi che ha funzionato adesso dovrebbe arrivare 3 o 4 cromla a guardare come procede la faccia si si ho sentito il potere oh cristo cristo oh mamma mia ok vabbè perfetto andiamo mi butto non voglio vivere in un mondo così scendali ma dov'è ma dov'è è qua sopra oddio ma che cazzo sta ecco ma sempre dietro voglio ragazzi stiamo entrando in una zona nemica dove fai cosa sta succedendo girati pronto qua voglio andare in là c'è qualcuno là di dietro fight for lambe lo so c'è qualcuno qua è un t34 motore radiatore lo buleggio io questo anche perché un modello 1940 la tristezza sconfinata perfetto ti ho visto vai che arrivavi a spararli no ho fatto solo un assist mi serviva io adesso inizio a sparare per dare supporto da perché ho la canna lunga ripeto ho la canna lunga e dura preso uno il kv non viene a prenderci il kv non viene a prenderci sherman dov'è il kv è qua sotto è qua sotto ma stai tranquillo no no stai tranquillo devo ricaricare dimmi quando sta salendo sta salendo tanto un po quanto troppo e che si l'ho preso gli ho fatto male boia bruleggiatelo non c'è nessuno qua a darmi la mano no ci sono io ma sono impegnato con un t34 anche io sono impegnato con una bella bravo allora sparavamo tutti lo stesso t34 beh il k1 l'ho ucciso no è ancora qui sta scappando in retomarcio carro dietro di noi lì morte dietro è roba tua io sono occupato col kv1 ma si spara lì ma io non ci sono ragazzi io se cercano di prendere sul fianco quelli che vi salgono per arrivare dove siete voi artigliere artigliere aiuto aiuto sono in mezzo alla vegetazione brucio ho fatto una mossa del cazzo niente ragazzi questo è il piano se si mette male mi butto giù se si mette male porca troia no no non lo volevo fare ah il kv1 è morto si o no? ragazzi è il momento di mettere la modalità gioca saggio si morto 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 ok 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 ragazzi ah lo stiamo prendendo difendiamo e basta no il kv1 è ancora lì l'euro qua sono tutti ancora vivi vado ad operare insieme a due punti drogativi mamma mia mi sono spostato appena in tempo è arrivato un colpo d'artiglieria durissimo ragazzi ragazzi bam si ne ho preso un altro ma si dove sei? ma si perché lo sei qua mi uccido prima che arrivino da voi niente mi ha devastato mi ha sparato prima e mi stupra ragazzi il kv1 è lì sopra adesso fa delle kill abnormi perchè lì sopra è il re della collina nessuno lo sovrasta no non dite Simba? porca troia ho capito cosa è successo no no prende un aereo no non posso prendere l'aereo ma si? dove sei? oh no ragazzi quel pirla di levro morto si è ribaltato di nuovo eh io mi sono incastrato ma si no ma sta mappa è un disastro si 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 dai dai sherman si si no si yes yes no l'aereo no dai era appena finito aspetta aspetta facciamo vedere la sofferenza prendo un aereo facciamo vedere la sofferenza vengo in aereo con te dai almeno ok facciamo così intanto ormai la partita è vinta su questo io vorrei dare dire però fa niente no levro mi vengono a prendere mi stanno lasciando andiamo ma si con due m10 abbiamo una potenza di fuoco abbiamo una calibro 50 e aia no sai che non mi ricordo cos'è la metà di attività di su con la calibro 50 no una 12 aia duro a morire non è un obiettivo che voglio fare ma in realtà si che è bello ti da tanti punti no no non è bello crepa 57 no va a fuoco e basta no la culatta è rotta com'è che ci prendono a com'è che ci prendono a c'è il 57 qua sua no ragazzi arrivano in mass ok aspetta aiuto aspetta kv1 sul fianco ce l'ho sul fianco vacca boy si è abbassato no massi perché c'era una depressione nel terreno no mi rascia massi mi rascia massi spara gli massi sto rilando io ho bisogno di più tempo per arrivare da motta massi sono 20 motore e radiatore sono qui sono qui motta è fermo perché l'ho incendiato sono qui sono qui dov'è è qui di fronte a me si che uomo baciami i piedi c'era anche il 334 è mio questo si sta calmo preso gli ho preso tutto gli ho preso tutto cosa è rimasto l'erroia finita perfetto si grazie l'evro bene adesso tutti dentro l'artiglieria forza 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 fatto di gruppo fatto di gruppo dai 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 aspetta tutti vicini si c'è arrivato anche il 34 ok perfetto ci si questa è la copertina perfetto ragazzi manca solo due 334 un bf e tante belle porte se me non rusherei la ricerca di t34 mi ribalto di nuovo ma perché vi dico solo che c'era un t70 in base vince chi se lo chi se lo bette l'ho visto ma io 23 secondi per lasciare l'area perché sono dentro il loro punto di spawn ha vinto l'euro no ha preso il 34 l'euro dov'è non lo vedo non lo so non c'è non c'è ragazzi è scappato in base non mi interessa io vado a morire io vado a morire in base massi no guardiamo massi che esploderà 3 2 no manca 15 colpo finale mamma mia la squadra migliore sono secondo algo della bilancia hai capito vacca boi tu sei quello che decide se una persona è grassa oppure no comprate m10 shoppate shoppate le mimetiche di m10 shoppate no ma shoppate in generale fate girare l'economia ragazzi date i soldi alla gaijin così gira l'economia russa cacciate i soldi alla gaijin gli togliamo i dazi e siamo tutti più veri e con questo incredibile scopo abbasso i dazi sulla russia arrivederci ciao arrivederci e al prossimo caffè caffè caffeina cocaina ciao